Ieri è stata l'ennesima giornata da brividi e da pelle d'oca nerazzurri interisti. Ma la cosa meravigliosa è la consapevolezza di quello che siamo. E sapete chi siamo? Siamo gli stessi che fanno il record in cassa in trasferta in casa da vent'anni. Siamo gli stessi che nonostante il ruttatore De Boer e all'epoca Pioli hanno incitato la squadra fino all'ultimo pareggio, mi pare, a Torino, dove abbiamo abbandonato la corsa a Champions. Siamo gli stessi che cantavano sulle rampe delle scale dopo quella faticosissima sofferta vittoria sull'Empoli che ci ha consentito per il secondo anno, poi con Spalletti, di andare in Champions per il rotto della cuffia. Siamo gli stessi che hanno portato 200.000 persone fuori da San Siro nella vittoria dello Scudetto. Siamo gli stessi che non sono potuti andare a fare la finale, a vedere la finale di Europa League nel 2020. Siamo gli stessi che hanno vissuto con dolore una sorta di piccolo smantellamento, piccolo o grande smantellamento, dipende dai punti di vista. Siamo gli stessi che poi ci siamo ritrovati tutti uniti, nonostante tutto, con una Coppa Italia, una Supercoppa e con una partita maledetta di Bologna, con tante situazioni. Oggi qualche verme parla di Marotta League, ma quel campionato anche per noi era stato deciso da delle situazioni che poi hanno inciso su quei tre punti che hanno fatto la differenza col Milan, al di là del campionato ottimo dei rossoneri. Però siamo gli stessi che poi sono rimasti lì a battere le mani, perché poi lo Scudetto ti cambia la vita. Mentre le Coppe sono bellissime, le Coppa Italia, ma non ti cambiano la vita. E quindi le lacrime di Lautaro e non solo di Lautaro ce le abbiamo tutte impresse nel cuore. E lì c'eravamo. E quindi siamo gli stessi che hanno riempito per tutto l'anno lo stadio, nonostante quell'annata con tante sconfitte. È un po' anomala per la nostra Inter, perché erano tanti anni che non vedevamo un campionato così non combattuto, dove l'Inter non è entrata neanche. Addirittura con la Juve di Sarri siamo stati in testa per tanto. Però c'è stato da controaltare un'altra Coppa Italia, un'altra Supercoppa vinta col Milan, un'altra Coppa Italia vinta con i Viola e il cammino in Champions che ci ha portato a vendicare quello che era successo vent'anni fa, ma in maniera più netta e più chiara, schiacciando un Milan. Chiaro, se poi giocava Leao, però insomma non ha giocato e quindi si attaccano al cazzo. E poi siamo gli stessi che quest'anno tutti insieme abbiamo deciso, tutti, 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 che l'obiettivo era la seconda stella. Quindi quelli di ieri, quelli che ieri hanno fatto vibrare San Siro, quello che ieri abbiamo vissuto allo stadio, in tutta la festa, che è sempre un crescendo. Pensavo che la festa più bella forse è quella quando vinci lo scudetto in faccia ai milanisti e vai in Piazza Castello col diluvio a festeggiare, camminando su bottiglie di vetro, di birra, di casino, tutti bagnati con tre gradi a fine aprile. Eppure quella sembrava la festa più bella di Estata Stupenda. Poi c'è stata l'invasione dei Purma Scoperti e quella sembrava la festa più bella. Poi ieri chi c'era a San Siro ha vissuto qualcosa di... Ci sono stati due momenti, la coreografia, una delle più belle di sempre, anche se fatta con dei cartoncini, ma una delle più belle di sempre, dove poi sono partiti due cori che io ho caricato su Instagram che ancora un po' mi portavano le lacrime agli occhi, perché c'è qualcosa che va oltre quello che tu puoi gestire. E quindi è stato un momento toccantissimo. Poi sarà che in questo periodo non sono informissima, quindi sono un po' più sensibile alle cose. Quando diventi vecchio, non mi ricordo chi lo diceva, forse battiato. Avevo trovato una citazione. Quando poi diventi vecchio ci sono situazioni belle che da giovane non cogli, perché poi le cose belle le cogli dopo, quando diventi vecchio, e quindi quando arrivano le fai tue. E ieri è stato come tornare bambino. È vero che lo scudetto di Berselino e di Trapattoni mi ha fatto piangere, così come il triplete, ed ero già grande, ma è anche vero che ieri mi sono ricommosso, perché ieri a un certo punto non c'era un buco libero allo stadio. Ci sono state richieste per 200.000 persone, dentro e fuori lo stadio era pieno, la coreografia era qualcosa di emozionante, ma i cori di tutto lo stadio, quello che deve essere il mondo interista, unito nello stadio di San Siro, unito, tanto che i tifosi ospiti, beh ieri c'erano gli amici laziani, ma i tifosi ospiti non si sentivano, non esiste tifoso ospite. Perché? Perché siamo una bolgia, siamo una cosa sola, e tutto questo, ci tengo a dirlo, lo eravamo già. La vittoria non è oggi con la vittoria, tutti uniti, ah che bello, poi domani va male e si contesta, quello sia, no no, la cosa bella è che siamo sempre stati uniti, lo siamo stati nei momenti di difficoltà, ripeto, da quando c'era l'utatore De Bur, passando poi per Pioli, per Spalletti, per Conte, per Inzaghi, e per tutti i momenti che ieri Inzaghi ha ricordato, no? Tantissimi belli e qualcuno molto duro. Tutto questo poi, pensando a quello che sta accadendo in società, che poi è stato il leiti motivi di questi periodi, no? Tutti questi nemici. Io mi siederò qua. E so benissimo che la mia Inter non tradirà mai, mi fido totalmente della management, e in fondo mi fido anche di Zang. Ora è uscita la notizia, diceva Caressa, ma non confermata, cioè Caressa dice notizie che poi non può confermare. Come se io dicessi, beh, ma ragazzi, stasera, allora vi invito tutti a cena forse. Comunque ci sarebbe una clausola da 50 milioni che se Zang la pagasse, questa è una notizia e Caressa, non la mia, è una fonte la sua, qua di Sky. Quindi da Sky dicono che se Zang mai pagasse altri 50, oltre agli interessi e oltre ai soldi che deve dare, potrebbe praticamente poter usufruire di un fondo che paga, insomma di un prestito che paga un debito, a patto che metta 50 milioni. Questo è quello che dicono non confermato. Invece altri dicono che ormai i giochi sono fatti, ma che all'Inter non capiterà nulla, che O3 sa benissimo che cosa fare, come farlo, quando farlo, ci sono dei tempi e quindi in 20 giorni si fa un CDA nuovo e si riparte, sapendo che ci sono situazioni da discutere appunto con lo staff di Zaghi, con Barella, con Lautaro, sopra ogni cosa. Il mercato è in parte già fatto, in parte da fare. Quello che posso dire è che quello che noi siamo diventati non lo siamo diventati oggi con la vittoria, è troppo facile, lo eravamo già, anche quando salivamo, anzi scendavamo dopo Inter Empoli, cantando quella maglia che tu indossi, quei colori che tu hai e quindi da quella canzone siamo diventati una cosa sola e quindi noi siamo già quello che eravamo ieri allo stadio. Ovvio che nella vittoria siamo ancora più belli, siamo ancora più unici, ci siamo fatti un applauso perché poi sono usciti i dati ufficiali sulle presenze allo stadio e nessune come noi e quindi è un trionfo della gente, del popolo interista che ragazzi, io vi assicuro, non è mai stato così. Cioè l'Inter è stata la squadra più gloriosa negli anni più gloriosi forse del calcio perché a cavallo degli anni 60 e 70 abbiamo vissuto i Pelé, i Kreif, i Beckenbauer, i Di Stefano, i Puskas, i Mazzoli, i Suarez, la grandissima Inter, tante altre squadre che hanno fatto la storia e in quegli anni l'Inter era un punto di riferimento anche come tifuseria. Una delle prime squadre insomma ad avere persone che andavano in trasferta come nel 71 in Olanda con la finale con l'Ajax persa a Rotterdam. Poi c'è stato un momento di scoramento, di difficoltà perché quelli che venivano e che andavano allo stadio con la grande Inter per loro era inconcepibile. Infatti io mi ricordo quando andavano in lo stadio negli anni 70 il coro era Morà, Terrera, questa è l'Inter vera. Purtroppo veniva attaccato fra i Zoli, un po' meno Pellegrini, però ci sono stati anni in cui beh ragazzi non è che vado lontano, io vi racconto di un Inter Dinamo Kiev o di un Inter contro il Rubin Kazan con gol di Balotelli dove lo stadio era mezzo vuoto. C'è Coppa Campioni che poi avremmo vinto c'erano 40.000 persone. Facevo fatica a regalare i biglietti. Sto parlando del triplete? Non sto parlando del triplete. Oggi le trasferte sono oceaniche, lo stadio è pieno anche se giochiamo in Coppa Italia con il Pordenone o l'Atalanta e quindi questa è la consapevolezza di quello che siamo ma che già eravamo qualche anno fa e che non siamo stati in passato perché io sono vecchio e me lo ricordo e mi ricordo anche situazioni difficili, stadi vuoti ma non per le contestazioni proprio io mi ricordo che c'erano partite di Coppa UEFA con Mazzarri quando c'era Coutinho quando c'era Covacic dove io lavorando poi d'estate avevo i biglietti e quindi comunque diciamo che mi rilassavo andando a San Siro il 10 di agosto robe così no? Ed eravamo in pochi uno perché tutta la gente giustamente in vacanza e due invece adesso ma mi ricordo anche i preliminari con lo Shakhtar vabbè aiutatemi voi preliminari di Champions mi ricordo tante cose mi ricordo una sfida con Basilea dove mi ricordo le supercoppe vinte con la Roma anche quella bellissima vinta 4 a 3 cioè lo stadio non era pieno quindi cioè parlo di di situazioni che non sono sempre stati tali anche col triplete anche coi tricolori quando vinciamo lo scudetto a Siena ok anzi no a Siena no perché eravamo a Siena quando vinciamo lo scudetto a Parma all'ultima giornata che è anche lì di Ruvia poi da Parma tutto in Duomo con l'acqua e poi festa la sera a San Siro il biscione di nuovo campione e festa fuochi Stankovic giocatori mitici che poi avrebbero vinto anche la coppa dei campioni ma lo stadio così pieno come ieri neanche per la Champions League neanche avevano le 6 di mattina però è per dirvi che da qualche anno al di là dei risultati siamo diventati qualcosa di fantastico e poi quando c'è la vittoria San Siro trema di di entusiasmo di passione di brividi ed è qualcosa di meraviglioso quindi nessuno ci potrà mai togliere questo noi abbiamo questa consapevolezza vorrei che l'Inter facesse mezzo passo indietro su quello che sta facendo sugli abbonamenti perché non lo trovo corretto ma ci spiegheranno come mai sembra che stiano cambiando alcune regole sugli abbonamenti vorrei che se ci fosse un nuovo stadio fosse alla portata di tutti perché è il calcio del popolo vorrei salutare tutti quelli che mi hanno salutato ieri vorrei ringraziare tutti quelli che hanno permesso la cavalcata verso la seconda stella e quindi tutti 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 quelli che ci hanno creduto in primis Inzaghi che si è messo a disposizione della seconda stella sapendo quando lui tenga le coppe ma sapendo che l'obiettivo era questo io spero che anche il mister Inzaghi abbia adesso compreso veramente che cosa voleva dire e che cosa vuol dire vincere non solo lo scudetto a Milano con l'Inter ma vincere la seconda stella ed entrare nella storia perché quello che abbiamo vissuto è irripetibile e quindi ora abbiamo la consapevolezza di chi siamo e soprattutto abbiamo la consapevolezza che vincere lo scudetto oggi perché io credo che l'anno prossimo l'Inter ad oggi è la stra-favorita per rivincerlo ci potrebbe permettere di fare di nuovo un'altra festa così e di non farla fare agli altri e di risentirci urlare così e di rivederci felici così di riabbracciarci così con Ligabue che fa una canzone e dice parole bellissime con gli altri cantanti con gli altri diciamo VIP o non VIP e con tutta quella situazione molto bella molto molto interista molto molto diversa con tutto rispetto da 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 tante altre tifoserie una festa passionale ma sobria tranquilla in una Milano che ci ha regalato per fortuna in questo periodo in cui piove tutti i giorni un clima spettacolare il Signore ha voluto che ieri a San Siro ci fosse un clima perfetto un tramonto meraviglioso e una nottata con i nostri colori con due stelle nel cielo che hanno riempito il nostro cuore di orgoglio e di felicità ora stiamo tranquilli dopo un attimo di panico anche da parte di Marotta con qualche dichiarazione tutto è già rientrato questa sera ci sarà la cena dei vips al castello sforzesco magari se non piove facciamo un salto e magari facciamo qualche intervista per il canale vi voglio bene ieri mi sono commosso ho messo dei video su Instagram veramente belli e quindi noi siamo noi e gli altri non sono un cazzo questa è la verità e devono impazzire a rosicare e se tutto rimane così tra quello che poi leggo di quello quello che fa l'allenatore questo quello quell'altro possono veramente dire quello che vogliono ma se sistemiamo due cose e se il passaggio a Octree sarà tranquillo e indolore come credo come ho sempre detto secondo me come minimo domineremo altri due anni o tre poi vediamo se riusciamo ad arrivare a cinque vi abbraccio Forza Inter